Il sindaco di Brindisi, Domenico Menniti, operato d'urgenza presso l'ospedale Perlino a causa di una emorragia interna determinata da varici gastriche sanguinanti. Il primo cittadino si trova ora in rianimazione. L'intervento con l'obiettivo di temporare il flusso di sangue per sclerotizzare le varici è riuscito. Presto il primo cittadino però dovrà essere trasportato presso il centro specialistico di Castellana Grotte per le cure del caso. Il sindaco, come si ricorderà, aveva accusato un primo malore lo scorso 7 giugno durante la presentazione degli equipaggi della regata Brindisi Corfu e trasportato in ospedale, dimesso il giorno dopo. Da sabato scorso però Menniti si era ricoverato nuovamente in ospedale per sottoporsi ad ulteriori accertamenti.